Tagli acrobatici salva fiumi e salva ponti. Sul fosso di bagno, piattaforme aeree e 3 climber in azione per eliminare la minaccia di piante malate in punti inaccessibili. Un intervento che ha visto il comune di Caprese Michelangelo e il consorzio di bonifica 2 Alto Valderno alleati per difendere il reticolo idraulico e le infrastrutture. L'amministrazione ha realizzato un importante progetto di restauro per rimettere in sesso i punti presenti lungo le strade comunali e il consorzio, impegnato nell'attuazione del piano delle attività 2024, si è mosso in sinergia con il municipio per eliminare le piante pericolanti che cadendo all'improvviso avrebbero potuto danneggiare opere idrauliche ed infrastrutture oltre a ridurre la luce dei ponti appena rimessi a nuovo. Particolarmente spettacolare si è rivelato l'intervento sul fosso di bagno illustra l'ingegnere Enrico Righeschi del settore difesa idrogeologica. Qui infatti la presenza di briglie, scogliere, cavi di servizi e la vicinanza al ponte della strada comunale ha reso necessario effettuare gli interventi di taglio dall'alto, una lavorazione di manutenzione ordinaria che ancora una volta si è trasformata in uno spettacolare ed approbatico intervento.